Dal Vangelo secondo Matteo. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Gesù percorreva tutta la Galilea insegnando nelle loro sinagogue, annunciando il Vangelo del regno e guarendo ogni sorta di malattie e di ermità nel popolo. La sua fama si diffuse per tutta la Siria e conducevano a lui tutti i malati tormentati da varie malattie e dolori, indemoniati, epilettici e paralitici ed egli li guarì. Grandi folle cominciarono a seguirlo dalla Galilea, dalla Decapoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e da oltre il Giordano. Gesù aveva iniziato la sua attività con il Battista, a un certo punto cambia dopo che il Battista viene messo in prigione. Il Vangelo dice che si ritira in Galilea, andò in Galilea, prima a Nazareth, la sua città dove era cresciuto, e poi si sposta a Cafarnao. La decisione del cambiamento viene motivata e spiegata da Matteo con una citazione del profeta Isaia. In tale profezia prima si descrive con precisione il luogo della missione e poi se ne dà una interpretazione un'interpretazione, un'interpretazione di fede, un'interpretazione teologica. Innanzitutto la descrizione geografica. La Galilea è una regione al nord dove si sono installate le tribù di Dabulon e di Neftali, due delle dodici tribù di Israele. Inoltre si dice che la Galilea è una regione dove passa la via del mare, cioè la grande strada che all'epoca di Isaia, ma anche al tempo di Gesù collegava l'Egitto con la Mesopotamia e si specifica appunto che si trova a ovest del Giordano. Queste sono le indicazioni geografiche che ci permettono di collocare con precisione il luogo dove Gesù è andato per la sua missione. Però la profezia offre anche una definizione teologica, la chiama Galilea delle Genti e Genti qui sta per Pagani. Infatti questa regione pur essendo abitata da ebrei, data la sua posizione geografica, ha favorito la presenza di Pagani sia al tempo del profeta Isaia, 600 anni prima di Gesù, sia al tempo stesso di Gesù. E quindi per gli abitanti per esempio della Giudea, per gli abitanti di Gerusalemme, la Galilea appariva appunto come una terra pagana dove non si viveva anche da parte degli ebrei in maniera pura la fedeltà all'alleanza con Dio. Per questa situazione, un popolo che giacce sotto le tenebre di una disobbedienza a Dio, tanto da essere chiamata Galilea dei Pagani, la citazione di Isaia continua. In Galilea il popolo è come un popolo seduto nell'ombra, e poi specifica ancora in maniera più forte, seduto in un'ombra di morte, morte appunto perché è nella infedeltà a Dio. E dunque un popolo che ha perso la speranza che viene dalla fede, è malato proprio perché non ha la fedeltà a Dio. La situazione del popolo spiega allora lo scopo e il risultato raggiunto da Gesù con il suo arrivo in Galilea, con la sua decisione di andare proprio lì in Galilea, spostandosi dalla donna del Giordano dove era prima. Vuol far sì che una luce risplenda, una luce grande, una luce bella, che dia speranza a un popolo che sta nell'ombra di morte. Ecco l'annuncio di oggi, il bello annuncio. Gesù andava in Galilea non solo per cambiare luogo, ma anche per diversificare il suo modo di vivere la missione. Mentre con il Battista era la gente che andava dal profeta per fare penitenza, per fare il battesimo, Gesù invece percorre tutta la Galilea, si mette in moto, entra nelle sinagoghe, cammina lungo il mare, entra nelle case. E che cosa dice, che cosa fa, come diventa luce percorrendo le città della Galilea? Il Vangelo presenta il riassunto, in poche parole, di ciò che Gesù diceva. Dopo questo testo che abbiamo letto nella Messa, nel Vangelo si trova invece un lungo discorso, il cosiddetto discorso della montagna, dove Gesù si ferma a predicare a lungo. Dunque il riassunto della sua predicazione qual è? Matteo lo descrive in questa maniera. Convertitevi, il regno dei cieli, cioè il regno di Dio, è vicino. Tale vicinanza di Dio, cioè Dio si è fatto vicino nella persona di Gesù e Dio si è fatto vicino come re, cioè come colui che ha potere. E questo potere si realizza e si manifesta attraverso, prima di tutto, l'insegnamento. Il popolo che va da Gesù viene istruito su ciò che Dio, il re, vuole per la salvezza. In questo senso Gesù è luce perché fa conoscere la volontà di Dio, consente agli uomini di vivere da partecipi al regno, cioè capaci di conoscere e fare quello che Dio, il re, vuole per la nostra salvezza. Grazie a questa conoscenza, alla conoscenza della volontà di Dio, la vita viene sottratta all'ombra della morte e viene aperta alla speranza della vita. Però Gesù non rende presente il regno solo con l'insegnamento. Egli è luce anche perché guarisce ogni sorta di malattia e infedermità nel popolo. Questo provoca una continua processione. Gli portano tutti i malati, tormentati da varie malattie e dolori, indemoniati, epilettici e paralitici. Egli li guarisce. Gesù dunque è luce perché guarisce il malato e il peccatore. Gesù è luce e questo spiega perché arrivi gente da ogni luogo. E Matteo lo precisa proprio bene. Arriva da Gesù gente dalla Galilea, dalla Decapoli, da Gerusalemme, dalla Giudea, dalle zone al di là del Giordano. È tutto il grande Israele che si raduna attorno a Gesù luce che insegna e guarisce. È dunque il Vangelo che diventa appunto bella notizia, per questo attrae. Ed è una notizia che va accolta. Ognuno di noi oggi è invitato ad accoglierla e siamo invitati a considerarla vera. Perché in realtà può essere che nella nostra testa solgano tante obiezioni, soprattutto di fronte all'annuncio delle guarigioni di Gesù, perché noi diciamo le malattie restano. Però oggi siamo invitati ad accogliere che Gesù annuncia di essere il liberatore. Se tu accogli la luce di Gesù non sei più schiavo della malattia. Innanzitutto Gesù ti ha liberato dalla superstizione. E allora usi l'intelligenza per cercare la cura della malattia. Colui che accoglie il Signore Gesù non respinge ciò che la medicina ci offre. Ma il Signore non soltanto ci ha spinto a usare l'intelligenza, ma ci ha anche sottratto all'ombra di morte che ogni malattia diffonde. Se lasci entrare la luce di Gesù, la malattia perde il suo pungiglione velenoso. Gesù non ti elimina la sofferenza, ma ti elimina dalla paura e dalla disperazione. Gesù è luce perché dà forza per la lotta per la guarigione e dà luce sufficiente per desiderare anche l'incontro con lui.